È un momento storico per l'Europa e la Finlandia. La richiesta di adesione alla NATO è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa. Mario Draghi riassume così la scelta della Finlandia, incontrando a Roma la Premier Sanna Marin nel giorno in cui però la Turchia ribadisce il suo no ai paesi scandinavi. La Finlandia sarà un partner affidabile della NATO e contribuirà alla sicurezza globale, ha detto la Premier, confermando gli aiuti militari alla resistenza ucraina. Grazie a tutti.